Signori, buonasera. Con i tre concorrenti di questa sera si concludono le prove eliminatorie. Al termine la giuria si riunirà per decidere gli ammessi alle prove semifinali. Al termine della riunione, la graduatoria con i risultati verrà sposta sul cancello della sede dell'Associazione Lipitzer di Via Don Bosco 91 e presso il teatro Bratus di Viale 20 settembre. Con i tre concorrenti di questa mattina, la prima riunione finirà. Poi la giuria si riunirà per decidere gli ammessi al secondo riunione. E i risultati saranno spostati sul cancello dell'Associazione Lipitzer. e a l'entrata del teatro Bratus. Per la nostra informazione, i competitori possono chiedere gli ammessi all'inglese dell'Associazione Lipizzata. A questo punto, ringraziamo carolosamente la giuria, preseduta dal compositore Aurelio Samori, e gli illustri grimmisti Edoardo Berrio, Thomas Christian, Gian Muier, Giulio Puglino, Anna Seroba, Takashi Shimizu. Passo quindi ad annunciare il primo concorrente della serata, Nankahira Miki, Nazionalità giapponese, cittadinanza giapponese, anni 23. Eseguirà nell'ordine di Johan Sebastian Bach, Grave e Fuga, dalla seconda sonata in La minore. di Rodolfo Lipitz, variazioni a delibitum, allegro sostenuto, allegro, dalla tecnica superiore del violino, di Camillo Sivori, studio capriccio numero 6, dall'Opera 25, di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto e solo maggiore KV 216, primo movimento, e cadenza di Franco, pianista Inga Zetzer. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.